Sono giorni importanti in Casavellino per sfoltire i ranghi. Luigi Silvestre ha raggiunto l'intesa con il Siena. Il difensore palermitano passerà con un contratto triennale al club toscano. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che ha indossato la maglia bianconera nel torneo 2015-2016. Daniele Mignanelli è in trattativa con il Lecco, club militante nel G9A. Il calciatore ex Modena, sin dall'inizio del mercato estivo, ha manifestato la sua volontà di ritornare al nord. Vincenzo Plescia è sempre in trattativa con la Carrarese. Si cerca una soluzione per Gennaro Scogna Miglio, che ha rifiutato Caserta, così come per Alessandro Mastalli, che non ha accettato Cerignola, ma che avrebbe su di lui gli occhi del Fiorenzuola. Riccardo Maniero, che non ha accettato Lecco, fa sempre gol a Monopoli, Turris e al neonato Catania Nd. Per quanto riguarda il capitolo entrate in difesa, Ramizzi Aia resta sempre l'obiettivo numero uno, mentre in mediana il sogno è rappresentato da Marc Carmelino. Per Paolo Frascatore del Pescara, l'Avellino avrebbe anche avanzato un'offerta. In attacco il Vicenza è rilanciato per l'argentino del Napoli Franco Ferrari, mentre Luca Zamparo, altro nome da tempo sul taccuino di De Vito, non vorrebbe restare in scadenza a Reggio Emilia. Ma per l'attaccante il DS di Capriglia prende tempo, visti anche i buoni rapporti con club di categoria superiore, ecco perché è spuntata una pista che porta a Cremona. Tra le sue gestioni del mercato estivo bianco-verde ci sarebbe il trentenne Luca Strizzolo, punta con un passato anche a Cittadella, Vicenza e Pordenone. Per lui 58 reti tra i professionisti.